È un periodo molto triste, se non si inventa qualcosa per tenere un po' alto il morale della gente, non è facile. La speranza è sempre l'ultima a morire, però sinceramente qui la speranza sta andando un po' via, perché troppi contagi, troppe situazioni che si trascinano, che forse la causa non è di nessuno, perché nessuno ha esperienza per affrontare un settore del genere. È difficile programmare anche negli acquisti, negli preparativi, con il personale, è difficile perché non si capisce quando arriva la gente, quando non arriva, la gente cosa vuole, cosa non vuole. Magari c'è dei giorni che ci aspettiamo dalla gente e non arriva, dei giorni che non ci aspettiamo i clienti e magari arriva tanti. È difficile organizzarsi, molto difficile. Grazie a Dio possiamo dire che sopravviviamo, perché avendo aperto la gelateria, la pasticceria, la pizzeria, oltre al solito bar, tabacchi, grattevinci, abbiamo una bella gamba, cioccolato caldo, spremuta di frutta e verdura freddo, quindi siamo abbastanza contenti, dico la verità, nonostante la situazione. Grazie. 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 Grazie.